buongiorno ragazzi benvenuti a un altro video di rivoluzione di parole io sono il rezzo e oggi andiamo a affrontare un argomento super spinoso super complicato super palloso la teoria musicale quindi partiamo subito a mille entriamo subito nel punto che cos'è innanzitutto la teoria musicale molte persone sono convinte che la teoria musicale sia un insieme di regole nel senso che io prima di comporre una canzone prendo un bel libro di teoria che mi spiega appunto le successioni degli accordi l'armonia la melodia le scale quant'altro e dopodiché forte di queste regole mi metto ad applicarle nella composizione oggettivamente è così nel senso che se voi fate un corso di composizione le prime cose proprio si basano sull'osservanza di determinate regole ma questo perché vi serve a capire a livello storico come si sono evolute certe consuetudini musicali i musicisti nella realtà nelle composizioni molto spesso usano queste indicazioni in modo molto libero capire la teoria musicale per quella che è una cosa sicuramente molto interessante è un esercizio per la mente è una cosa interessantissima a livello di storia dell'evoluzione musicale e senz'altro però non è che sia fondamentale indispensabile per creare musica prova ne è il fatto che moltissimi grandi musicisti sono autodidati o quantomeno hanno cominciato così dopo di che magari hanno anche loro approfondito l'unica cosa che mi è rimasta veramente impressa e veramente utile in tutto tutti gli esami di teoria storia della musica che ha fatto al dance è stato senz'altro è la teoria funzionale dell'armonia la teoria funzionale dice che in sostanza nel sistema occidentale quindi sistema tonale quindi che si basa su una tonalità di impianto se voi notate appunto anche nelle opere di musica classica sinfonia in do maggiore concerto in re minore quindi tutta la musica che parte da una tonalità di impianto quindi una nota fondamentale e tutte le altre che sono in relazione ad essa questa teoria dice che partendo dalla fondamentale i gradi quindi le note di quella scala che sono centrali per la composizione sono appunto la fondamentale che è la prima la quarta che era sotto dominante e la quinta che è la dominante questi tre gradi all'interno di qualsiasi scala e vengono rappresentati anche dagli altri accordi cerco di spiegarmi meglio facciamo un esempio pratico se io ho una canzone in tonalità di do maggiore avrò il do maggiore come fondamentale avrò il fa maggiore come sotto dominante e sol maggiore come dominante allora se io in questa composizione incontro un mi minore che cosa c'entra con queste tre con queste tre c'entra innanzitutto perché il la triade di do è composta da do mi e sol il mi minore è composto da mi sol e si il fatto che hanno già vediamo subito che hanno due suoni in comuni il si tra l'altro è la quinta quindi la dominante del mi ma è anche la settima del do quindi in una tonalità di do maggiore molto spesso se incontriamo il mi minore è come se quello facesse la funzione di dominante come fosse un rappresentante di quella dominante quindi quell'accordo noi lo dovremo interpretare come un do settima in cui il do viene sottointeso quindi non è mi sol si ma è do mi sol si do settima con la fondamentale sottointesa questo a livello di interpretazione chiaramente il mi rimane quello mi sol si è una triade ben precisa e quindi al di là dell'interpretazione quello è però per dire questo ci fa capire che qualsiasi tonalità e in qualsiasi accordo che noi scegliamo di usare dobbiamo capire qual è la funzione di questo accordo all'interno della frase musicale quindi quell'accordo lì serve da dominante serve da sottodominante o serve da tonica ciò che a noi ad oggi risulta bello melodico consonante 200 anni fa risultava dissonante per esempio per la chiesa nel 5 600 alcuni alcuni accordi addirittura venivano chiamati diabolus in musica quindi per dire che insomma fa venire in mente sono merlin manson nel cinquecento è una roba del genere leonard meyer scrisse questo questo trattato che si chiamava exploiting limit cioè esplorando esplorare il limite quindi sfruttare il limite in cui sosteneva che a volte proprio dei limiti personali no e creano delle grandi opere questo perché perché nel tentativo nello sforzo di superare quel limite troviamo una via nuova un modo originale di comporre o di interpretare la musica per togliere sto discorso da una teoria troppo lontana dalla quotidianità vi faccio l'esempio di un grande musicista secondo me forse il più originale degli ultimi anni in italia che è senz'altro giovanotti giovanotti piace non piace come tutti i grandi artisti che hanno un grande successo fanno dividere il pubblico tra chi lo odia perché c'è la zeppola o perché ha successo il loro no e chi lo ama il suo successo è trasversale se notate i ragazzini piccoli e i vecchi tutti amano almeno qualche canzone di giovanotti e è evidente che quando uscì il disco la mia moto non so se voi l'avete sentito io pensate fu il primo disco che comprai ero in autostrada con i miei e rompevi i coglioni parecchio per il viaggio era lungo e quindi mi comprarono l'autogrill questo il disco della mia moto no io avevo circa dieci anni non sono giù di lì come vai così che è una figata e io senti figata e mi sembrava una cosa super trasgressiva capito mi innamorai subito al primo il primo ascolto di questa cosa mi ricordo lo ascoltai tantissimo quella quel disco e vide era evidente il limite di intonazione il limite prettamente musicale di giovanotti ma come nell'esempio dicevamo nel trattato di meier esattamente così il suo limite ha fatto in modo che lui dovesse compensare così si è impegnato molto probabilmente molto più degli altri musicisti già bravi più bravi di lui per riuscire a creare una musica convincente no si vede un po in tanti ambiti della vita come vedete magari la persona che ha un limite fisico perché ha avuto un incidente gli manca una gamba sviluppa delle 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 capacità incredibili che non avrebbe avuto se magari avesse avuto entrambe quindi ragazzi vedete se avete un limite magari sarete nuovi giovanotti e quindi fate paura quindi morale quello che volevo dirvi ragazzi è che l'autoria musicale è una cosa veramente affascinante come tutti i campi della conoscenza quando vai un po a leggere interessati anche pur non essendo appunto uno specialista scopre tantissime cose che senz'altro direttamente o indirettamente ti possono essere utili sicuramente non può essere un punto di partenza per la creazione della musica al punto di partenza come dicevamo nel video precedente sul come scrivere una canzone se non l'avete visto vi lascio il link diciamo la cosa centrale il messaggio cioè cosa volete dire partite da lì dopodiché chiaramente dove dovrete affrontare tutti i vostri limiti tecnici sono sapete sono una chitarra o trovate qualcuno che la suona per voi o imparate a suonarla e quindi dovete nella pratica trovare il modo di superare i vostri limiti però non abbiate paura perché questo potrebbe essere anche la chiave della vostra originalità quindi non bisogna demonizzare assolutamente la teoria musicale e non bisogna neanche però dargli troppa importanza nella composizione reale della musica sappiamo che tantissimi musicisti sono autodidatti e quindi questo ci dà la prova empirica che non è una cosa fondamentale e ditemi voi anche come come la pensate che approccio avete alla musica la teoria perché io appunto dico queste cose perché avendo contatti con non molti ma qualche musicista è un discorso molto ricorrente questo sulla qualità è come se il musicista che ha studiato tanto lo strumento gli gira un po' il culo che arriva giovannotti stonato e fa successo stare basta o qualsiasi altro diciamo cantante o artista che ha basato tutto sul coraggio di esprimere se stesso rispetto a nascondersi dietro degli stilemi musicali da accademia detto questo se invece voi siete uno strumentista non ancora che ve lo dico l'unica strada possibile quella di imparare perfettamente la teoria musicale perché dovrete essere dovrete essere in grado di riprodurre uno spartito a vista questa sostanzialmente l'obiettivo del conservatorio non è che la conoscere la teoria conoscere lo strumento la tecnica ti toglie la creatività la creatività o ce l'hai non ce l'hai quello non dipende certo da questo un certo snobismo da parte di chi ha fatto il conservatorio rispetto invece anche magari artisti più ingenui e più comunicativi che magari hanno successo sul web o vengono i dischi o fanno i concerti è un po' puerile mette in luce il fatto che siete voi ragazzi che non siete felici della vostra approccio viceversa se invece uno assolutamente felice non dovrebbe dargli fastidio il successo di giovanotti o altro per concludere la teoria musicale è come uno strumento un martello non ha di per sé un valore specifico dipende da come noi lo vogliamo utilizzare sia il martello lo utilizzo per costruire una cosa bellissima ha un valore sia il martello lo uso per dargli in testa qualcuno l'ammazzo ha un altro valore quindi stessa cosa vale per la teoria musicale se noi utilizziamo la teoria musicale per aumentare la nostra capacità a aprire la nostra mente conoscere nuove cose avere nuovi stimoli questo ci servirà se indubbiamente nella composizione della nostra musica viceversa se la teoria musicale la usiamo male e quindi ce la mettiamo lì come un qualcosa che noi dobbiamo seguire come una regola imprescindibile e ci chiudiamo un po in questo complesso di non sapere abbastanza di non conoscere la musica di non conoscere il pentagramma e così questo può essere un grande limite quindi fatene buon uso come il martello dipende dall'uso che ne fa e ricordiamola questa cosa è detto questo ragazzi io voglio sentire i vostri commenti insomma dai dismi cosa ne pensate a parte gli scherzi solite raccomandazioni iscriviti like seguimi e ricordati che di solito il mercoledì esce il nuovo video di rivoluzione di parole qualche volta succederà che slitta un po perché ovviamente non è il mio occupazione principale quindi cerco di ritagliare il tempo per fare questi video e però insomma dai seguimi e speriamo di creare una comunicazione interessante su queste cose dimmi se ti è interessato se hai un argomento specifico che vuoi che io tratti e niente ragazzi ciao buona composizione a tutti